L'hai mai fatto prima? No. Grazie. E adesso? Cora ha detto una cosa importante. Quando uno spettro prende un'anima, non la intrappola per sempre. L'anima può essere riunita con il corpo. Credi di poter salvare Filippo? Possiamo provarci. Proviamoci allora. Abbiamo fallito. Davvero, Cora? Dopo quello che abbiamo passato, dubiti ancora di me? Quel fagiolo è pietrificato, è inutile. Ma se queste acque hanno proprietà rigenerative, magari potremmo darci al giardinaggio. Avevo ragione. Sei cambiata davvero. Grazie. Emma. Abbiamo un po' di cose da raccontarci. Non sai nemmeno quante. Cena da granny offro io? Purché non si mangi chimera, ci sto. Ehi, ragazzino, hai fame? Sì. Ci vediamo dopo. Tutto è bene, perché non mi si è persi. Congratulazioni. Hai appena riunito madre e figlio. Forse un giorno ti inviteranno persino a cena. Occoni. Quanti alla fine. Ehi, ragazzino. Ma siamo qui. Ehi, ragazzino. Quanti alla fine. Ehi, ragazzino. Quanti alla fine. Noi, che non mi si è persi. Occoni. Non mi si è persi. Occoni. Non mi si è persi. Eccola lì Storybrooke